Una denuncia che arriva dalle case Gescal di Pescara, consigliere Pettinari, ci sono dei disabili in queste palazzine, non ci sono degli ascensori e dunque le persone sono letteralmente bloccate in casa. Sì, veramente è una situazione vergognosa, una battaglia che sto conducendo da oltre un anno. Parliamo di Via Valle San Mauro, case Ater, quindi di proprietà della regione Abruzzo, civici 40, 42 e 44, sprovvisti degli ascensori. Sono proprio qui che sono disabili, al 100% invalidità, anziani, persone che non possono salire e scendere da casa. Addirittura delle persone anziane sono rimaste segregate in casa per tanti anni, sono morte, decedute, con la speranza di poter vedere la luce del sole e non sono potute più scendere. È una cosa vergognosa. Io da oltre un anno ho chiesto alla regione di stanziare fondi per installare questi ascensori e mi hanno preso in giro perché mi avevano promesso la realizzazione di questi lavori. non sono stati fatti, ho avuto un'interlocuzione proprio in questi ultimi giorni, sempre con i vertici della regione, che mi hanno promesso nuovamente che si faranno questi lavori. Ma sono solo promesse vane perché qui non vediamo niente. Oltre alla richiesta che faccio espressamente al Presidente di Regione Abruzzo, sperando che mi ascolti questa volta, di installare gli ascensori al 40, 42, 44, quindi di strasferire i fondi all'Ater, faccio un appello anche per la manutenzione dei palazzi. Per questo sono palazzi fatiscenti, dove ci sono infiltrazioni d'acqua, dove ci sono sotto le corti comuni, sono voraggini, pavimenti di velti che causano anche incidenti a volte ai cittadini. Ecco, mi auguro che questa volta ci ascoltino.